L'Age Progression ci ha consentito di creare la costruzione del volto di uno dei latitanti più ricercati. Si tratta di Giovanni Modisi, l'ultimo grande latitante della fase stragista di Cosa Nostra. L'Age Progression è una tecnica da tempo impiegata dalla polizia scientifica, ma solo negli ultimi tempi è stata ulteriormente perfezionata grazie all'introduzione di algoritmi di intelligenza artificiale, che ci permettono di tenere conto anche dei tantissimi elementi che sono stati raccolti legati alla famiglia del latitante, che ci ha permesso di creare un identikit che siamo sicuri darà un grosso contributo all'attività investigativa e nello specifico alle indagini contotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Palermo, ma speriamo che possa anche essere utilizzata qualche cittadino per fornire informazioni agli investigatori e per venire finalmente alla cattura di Giovanni Modisi.